Sotto l'albero i cosentini troveranno un bel regalo. Per fine anno è previsto infatti un aumento della TARES sui rifiuti solidi urbani del 33%. E' quanto prevede il documento approvato in giunta che ridisegna le aliquote dell'imposta sui rifiuti oggi chiamata TARES. Con questa tassa dovranno essere coperte tutte le spese per il servizio, che ammontano ad oltre 15 milioni di euro. Tanti per un servizio che a dirla tutta sembra fare acqua da tutte le parti. Si spera nella raccolta differenziata che, seppur sembra partita con poco slancio da parte dei cittadini, dovrebbe portare ad una riduzione della tassa nel prossimo anno. Almeno questi sono gli auspici. Intanto i cittadini dovranno fare i conti con questo significativo aumento. Un 33% in più, che ha spiegato il vice sindaco Luciano Vigna, non è un'entrata maggiore per le casse del comune, ma una scelta del governo centrale che ha scaricato sugli enti locali il ruolo di esattore. All'entrata maggiore corrisponderà una riduzione dei trasferimenti di 4 milioni di euro. Previste comunque diverse agevolazioni, le nuove attività nel centro storico non pagheranno nulla e c'è una riduzione del 50% per i commercianti di Piazza Bilotti.